Sento cinesi Come minimo vedo il covid De novo Yugi e tutti duellanti ben ritrovati sul canale Oggi siamo qui, siamo a Francesco Non sono morto, sono tornato Devo iniziare a giocare a Yugi E quale momento migliore se non aprire un prodotto Che non c'entra un cazzo coreano Con carte che non si possono giocare E che non conosciamo Io so già che carta voglio, spero di trovarla Hai detto che non conosciamo il prodotto Eh, sono solo una carta che esce Ovviamente prima di iniziare vi ricordo che questo video È sponsorizzato da Jackstore Il nuovo sponsor per l'acquisto di prodotti coreani Trovate tutte le info e il codice sconto Qua sotto in descrizione Inoltre se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball One Piece, Force Will e Digimon Trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione Contattatemi, mandatemi le foto E nel caso se c'è qualcosa interessante Se ne può parlare Detto questo, procediamo con l'unboxing Di questo prodotto incredibile che non mette a fuoco Perfetto Perfetto Andiamo da giurezza e prendiamo le forbici No, ma che forbici Questo si apre Ci può sto sgrillettando questo Come Marco Verrino Quanto mi manca la figa Eccoci Aperto Guarda, è questa tua mancanza di figa Che ti ha portato a quello che è successo Prego Guarda che bello Il token L'altro l'hai rotto Piano Con calma il token Il token con calma Dopo se te lo vuoi portare a caldo è tutto tuo Ah, no, era per lì Perché sennò te lo sbreghi Io lo so Pensa, non aprirai A parte non aprirai mai un box del genere In più dovremo aspettare fino ad agosto Allora, questo Per dopo Qui c'è la carta bella Una sola, vero? Sì C'è un pacchettino per una sola La plastica Oh, tieni Oh, dite lì Non li vuoi mescolare No, aprimo così Lasciamo tutto invariato Ok Va bene Così Una testa, parto io Allora, il nuovo questo I nuovi supporti di fuoco No, i nuovi supporti di fuoco Forse erano questi Ah, questo Questo bello, ho capito Quello che tipo bandisce Robe che non usi l'extra Una roba strana Sì, il pendolo è incredibile Michele ha tirato su una lista Senza senso Sì E qui sono i supporti nuovi Perché sono già usciti I supporti vecchi I supporti vecchi sono Le carte d'alcatica Tipo uscite in cyberstorm access Il box che sta lì Ah, ok Vabbè è uscito ieri Sì No, i supporti dino Forti E Ancora fluffa Sì, fluffa Pure lì Come che si aprono Sti pacchetti? Così? Oh, mi hanno detto Che c'è il taglio Qua su in alto Pazzesco Facciamo vedere il taglio Eccolo Sono tre box che aprono Non lo so più Pazzesco Pensa che stupidi Noi che non ce li abbiamo Ah, questo è l'illusionist nuovo Mi sa Sì Però non ho la minima Non so minimamente Che cosa faccia Questo è un altro illusionista È Gazelle Com'è che si chiama? Gazelle Questo fa il fumettista Sì E no, è il tipo che a casa Ha disegnato l'Infernobel Uh Prima super Prima super Che è sempre di quell'archetipo Ah, c'è un altro dietro Un altro illusionista Ok Abbiamo la carta numeralia Nuovo supportino Non vedo l'ora che esca tutto Perché Michele è da demà Non vedo l'ora di portarlo Quanto costa numeralia adesso Le carte Zero Quattro euro Perfetto Non so cosa comprerò Te lo ordino se vuole Comunque come vedi Per ora è il più forte Sono io Sono io Allora Sono io Abbiamo Supporto vento Gaia Un altro L'ennesimo Gaia Un altro supporto Numeralia Castira o Tirlamens Castire Eh ma questo è cash Castire Tire E questo è vi Sì Volevo Zoom Io non so se si è vista Nella telecamera L'ho fatto così Ho detto sì Zoom un attimo Il viso a Starfloss E Che bello Guarda che fida D'artwork Cos'è ricca? No No Ghiacciagiata Mi sa Che schifo Ti faccio vedere Come sbusta un'altra super Così In scioltezza Un dinosauro Dei delfini Molto carini Chissà che fanno Non lo sapremo mai Dei pugni Interessanti Super T'avevo visto Questa nuova durlindana Tipo quella degli infernobili È bellissima È una spada giapponese Una katana Sì Chissà che fa Chissà che fa E poi Nuovo supporto Stardust Sì Nuovo supporto Stardust T'avevo visto che sbustavo la super Ti tiro su una ultra Io intanto te il sistema Ma che ultra L'ultra la sbusto io adesso Dai tranquillo Ecco Il supporto infernobel Che è giapponese a sto giro Ok Lui Se non dovrebbe essere Illusionista Illusionista Ok I supporti fuoco Dai è bellissimo Bello Allora ammetto che gli illusionist A livello di artwork Mi gustano un botto Boh ma c'era Tanta roba C'era bisogno di fare gli illusionist Sono letteralmente Tra incantatori e demoni Sì A me va bene Poi anche questa bellina Che è tipo un uovo Ghiaccioggiata Non credo sia ghiaccioggiata No Non lo so Perfetto La gente non capirà mai Perché non è a fuoco Perfetto Perfetto E siamo a tre super Non c'è rimasto più niente nel box Sì Dentro i box giappo Come funziona Il pull rate C'è una secret Uno ultimate E poi le ultra Questo era carino Ho letto l'effetto Questo di no Vero stai mentendo No no Era un effetto carino Ok Era il peccato Era che c'era solo un botto Cioè che non ha stelle Per magari far salvaggio Per fare gli xyz Che è tipo l'aggia Quindi era un po' me per quello Ah no E però Non mi ricordo dove esce C'è proprio un archetipo di dinosauro Che sei eh Che ci fai Sì Ah perché hanno fatto poi Sì 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 Lui Cos'è? Infernoble o Supporto fuoco? Oh mascherena Cioè no Sta succedendo una cosa E mascherena lì a caso Messa lì Perché la waifu Beccano sempre Sì sì Ah no no Non c'ho la super Né niente Vabbè Altro supporto fuoco Che non metta fuoco Ah ah xd Ok L'altro l'ha messa fuoco Che è libero Sti supporti fuoco Comunque non sappiamo gli effetti No Non sappiamo gli effetti No Di Artwork Carini Sì sì Vabbè Cos'hai visto? Cos'hai visto? Ma cos'è? Ma cos'è? È È bellissimo You say solo moto È bellissimo È pazzesco Io cerco il draghetto Speriamo che salta fuoco La giara nuova Molto bellina Flip chiaramente no? Sì Alessimente flip È l' Orca Questo è il drago del 5D Sì Non mi scugge il nome L'ultima yetz walking Questo è tipo È quello dei final fantasy Come si chiama? Non ho mai giocato a final fantasy Però bello Cioè Le carte giapponesi Quando le sbusti C'hanno un altro fascino Poi quando le sbusti da noi Che merda È molto bello È sinceramente molto bello questo Sì Vorrei fare un focus È veramente figo Qui c'è la starlight Questo qui che dovrebbe essere Un illusionist Un altro gelato È ancora un gelato Pallese È morto Ah Sembrava sangue Oddio Mi pareva sangue davvero Ok Non c'ho nemmeno io niente Questa è quella di prima Ma invece c'ho Che bella Invece c'ho Ma è l'ultima Che ci porteremo avanti Per il prossimo meta Allora va sincro Oh il buco Il buco nuovo Questo è il buco Fa da buco trappola Ma banna È un po' così Nel senso In un meta futuro Dove Ma non c'era già il buco trappola Che bannava No Il buco trappola È quello che fa 1500 inferiore Ah ok No aspetta No 1500 1000 inferiore Questo Questa è la sua versione Del 2023 Che banna Adesso faranno Tipo tutti gli altri Quello che rimbalza Quello che fa cazzi Oh vedo già un sincro Ui non abbiamo ancora sbustato Quel cavolo De Non ho spoiler Non ho spoiler Allora Gaia Il fuoco L'infernovel Ma non è a fuoco Non è a fuoco No Potevi spezzare un polso Sì Ok Adesso è a fuoco Infernovel La nuova carta dinosauro Tipo la pillola evolutiva Sembra Però è una nuova pillola Non so che fa Per i sei Bello Questo bella Non so che faccia Però è una terreno Molto fila Secondo me è terreno Viso a star No zì Incredibile Perché le sbustiamo Incredibile Ma è bellissima È il sincro di cui parlavamo prima Ma questa non è una verità normale È la ultimate La loro ultimate Sono proprio io Grazie Dai è fighissimo Bella dura Il sincro viso a star Molto bello Proprio bello Oh nella colonna mia Non c'era niente Niente oh Cazzo questo è proprio È proprio fregna È proprio bello L'archetipo Wow 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 Comunque se non trovo Quella carta comune di merda Cioè Io c'è non uno di box eh Ma lo so Il dinosauro di prima O coccodrillo Sì più lo metti vicino Ah sì Che poi io sto box L'ho pagato tipo 40 euro Questa quanto vale Cosa Oh una nuova spada Un'altra super incredibile Questo forte Questo è È tipo È sempre una fusione generica Che non puoi sparare Di super poli però Tipo chimera E te fa recuperare Polimerizzazione in mano L'avevo vista per fluffa Bella Quindi sempre un mazzo di merda Però carina Cosa non l'avevo proprio vista È da capire Questa spada cosa fa E ci siamo già giocati tutto Sì infatti Ormai solo comune e merda Allora no Dammo le cattive Tanto se sventiamo qualcosa Non ci può essere più l'ultimate Tanto Non ci può essere neanche più la secret Oh questo è gli unchained Sì Che uscivano nuovi Il coccodrillo Un'altra spada Un'altra spada Un'altra spada Un'altra terreno però Ah però un'altra terreno Wow Guarda avevano detto che i supporti inferno Non erano per nulla male Questo carinissimo Che sono pure saliti di prezzo Sì Questo come sa che è vilai Dal 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 fatto che sia un occhio E cattivo Comunque non ho capito Perché da due list No Da Stabio Stormarchist Hanno messo il logo del venticinquesimo E prima non l'hanno mai messo A questo punto potevano farlo Anche da fotone per nuova Allora Quello aspetta L'ho già visto come archetipo Sì I supporti Altergeist Altergeist Cosa mi ricorda Che merda Ancora un chain Tutti common Eh ma da noi De rarità non saranno mai La polimerizzazione De gazelle Re delle bestie La polimerizzazione De l'illusionist Dai è da provare con il mazzo Io sono gasatissimo Adesso gasatissimo Mi piace Che il vento fa torna indietro E è quello che un fanboy vuole Ovvero artwork rifatti Esatto Semplicemente artwork rifatti Più forti Con effetti sbloccati Non once per turno A te t'hanno fregato Con il mazzo abbandono Sì sì Infatti adesso lo compro Non è che Ragazzi a breve Declist Mazzo abbandona Spoiler funziona solo con Max C Su Master 2 La camisera Inferno Supporto fuoco Poi ci prendono il giro Quando Quelli di magic Sì ma se facciamo artwork del genere È normale Quelli di gelati Molto belli E una rara dietro Oh questa volevo Allora questa Attenzione Io qui lo dico Morfotronico T0 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 Come tu un cash La cerchi Questo più forte Perché la cerchi Con tuning E ti basta un morfotronico In mano E caghi barone Così Due carte Facile Ragazzi Declist morfotronico A breve Sì Però senza quella Purtroppo Per cui la toccherà Aspettare Ce ne abbiamo una Eh no Dico Se vuoi la faccio con quella Ma non è giocabile Vabbè Che cazzo me ne frega Finché non esce Allora Altro illusionist Sì Disegnatore della Konami Che non viene citato Perché gli comprano i diritti Poi carta di Starfrost Bella No questo non vi piace tanto Questo dove è Non c'ho idea Evil Eye Pure beh Dai Artwork mi sembra Perché dovevano usci Se non sbaglio Cimi che c'ha tutto il mazzo Evil Eye Sarei informato Che sarebbe uscito qualcosa Dai un po' Tirano fuori qualcosa altro E manca l'ultra no? Non so quanto è Pesa C'è l'ultra Facile Qui c'è l'ultra Altergeist bianco Un strumento Questa è la statua Stato al lupo del vento Sincro strano E' l'ultra Non è possibile Poi quella La carta della copertina Sì Facile Easy Facile Io penso che posso ribaltare Solo con la Starlight Arrivato a questo punto Sì Dai che culo di merda A questo punto potevamo Vendere mezzo box Roba inutile Roba inutile Dai qua la folla Però le carte Uh questo è XS Dino Sì ma te lo ricordi La Il dinosauro Che usciva Nello structure Sì ho capito È lui Pallesimente lui Ha gridato Comunque senti Non sanno Non so buone Quanto le nostre No No Ci hanno lo stesso odore Secondo me Quelle coreane Sanno dei vintage Invece Queste sanno Non hanno lo stesso odore Perché le nostre Sono chimiche Questa è tutta roba naturale E la stampa è più buona E la stampa è più buona delle nostre Senti proprio Ti bruci i neuroni Quella roba Sì 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 Via via Volare Che sennò qui il video diventa mezz'ora Per aprire un box Giapponese Oh Usei Come minimo di quella Ne troviamo una sola Perché è rara La giara nuova Sempre il fumettista Una trappola San Avalon Un drytron Porto drytron Mamma mia Basta drytron Basta Oh però Attualmente è forte Come azze È quel problema È forte perché Pochi giocano Cioè no pochi Però in generale Il caso è che se ti fa la board È un problema Se riesce a chiudere Non mi ricordo Con chi è che ne parlavo Cioè Quando il tempo fa Lo giocavano E se l'avversario C'ha tre ht in mano Rischi comunque Buttata al punto giusto Questo è il nuovo Runic Sì sì Porca droga Questo è il nuovo runic Quando verrà riprintato Uscirà questa Che gli darà ancora Quando verrà Speriamo che in banlist Lo toccano Visto che avrà questo Però questo non so Se era forte Non mi ricordo Minimamente l'effetto Dai su Uno non può Ti sbusta un altro ultra Mi fai passare la voglia Sbusta Se con te Se Doviamo davanti così Illusionist Pugni Frost Coso Visas No ragazzi Non è possibile Non è possibile Questa è la Mikanko nuova Sì la Mikanko nuova Esatto Figa Oh dai Molto carina Come Arthur Peccato che mi facciano cagare I rituali Guarda che mazzo È finissimo Non so minimamente Gli effetti Che fa Non voglio Gli una cavolata Però Quando attacca il mosso Dell'avversario I danni li prende l'avversario Loro ce l'hanno zero Probabilmente ha detto L'effetto male Però Non me lo ricordo più ragazzi Guarda Su sta colonna Non c'è l'ultra C'è l'ultra O questo è il nuovo mazzo Come si chiama questo qui Non me lo ricordo È il nuovo mazzo che deve essere forte Tipo Che in teoria Forse sarà forte Comunque Tutti i rifacimenti Da 5DS Tipo i tiri fuori Sì ma infatti Perché io Sono aggassati Con sto 5DS Perché quest'anno Con 15 anni Dall'uscita di 5DS Quindi festeggiamo Subito a fuoco Incredibile Quindi questo Non c'è niente dentro È acqua Hai detto subito a fuoco No a fuoco Dico subito a fuoco Dinosauro brutto Trappola che non si giocherà È il mazzo Emergenza Quello che usciva Non mi ricordo Dai set recenti Oh c'è qualcosa Ah no No è la rara Se c'è la rara Non c'è la foil Fanculo Fanculo Allora Dai Apriamo l'ignoranza Comunque quando ho sbustato La prisma L'ultima volta L'ho sbustata Smentata Unica carta smentata Del box Mi ricordo No aspetta No non è Quella che era Super tutta sbrelluccicosa Deca stira Abbiamo sbustato insieme Sì ma quella era Una ultimate Ah era una ultimate Niente Mi ricordavo male Allora Giara Mi canco Non c'è niente No Il supporto nuovo È questo Che è quello forte Sportunovo Infernovo Link 1 Questo è veramente forte Porca figo Ed è pure Veramente bello Figone Quasi quasi So Veramente casano Tanto se devo giocare Un mazzo guerriero Gioco sei samurai Chiaramente Se devo giocare un mazzo warrior Eh È solo il supporto Il battle in boxer E ora che ti monti quello Che schifo Che schifo Ti auguro di essere sconfitto Da un battle in boxer Oh Per lo minimo Io mi merito Il pacchetto promo Molto Molto bello Questa carta In realtà Sono un archetipo Queste sono le pallette Che metti Nell'altro natale Altergeist Gelati Albaz Cos'è sta roba Per me è Albaz No Albaz È finita la loro Altergeist Altergeist Albaz Vabbè E il gattin Abbiamo Uh Altro supportino Unchained Questo non avevamo mai sbustato Mi sembra No Forse uno Poi abbiamo Sai Il mostri vozzard Dici Sì Poi Questo E altro buco Un buco E con i buchi siamo a due Stanno quando La rana che cerchi Non esce mai In chiude una copia Che da noi Uscirà comune Chiaramente Illusionist Come minimo Un altro dinosauro La terreno Degli infernobili Uh Questo è sempre un chieng Sì L'incancena Uh la super Troppo Comunque sono veramente belle Sì è un mazzo carino Come artwork Io c'ho solo il livello 4 Il no Sì Il sì livello Il link 4 c'ho Unchained E a che te serve? Non è un link 4 generico? Non me lo ricordo Allora abbiamo Carta unchained Carta evolve Cono gelato Non c'è niente Questo però è forte Anche questo era Cioè sono supporti carini Per il mazzodino Cioè magari da giocare In monocopie e basta Sì ma il problema è che Non so se riesci a bridarlo Con dino Con l'attuale Che devi fare Questa versione di dino Eh no ho visto E ci aggiungi le cose che può Ho visto i bridarlo con dino Ma senza il pacchetto Scrap Ah ok Cioè levi scrap Perché dopo inizia Troppi pali in mano Che non sai come Bisostrarti Credo eh Non l'ho provato Sta cavalcata è finita Io c'ho ancora Do pacchetti Ehi c'è uno Attenzione No non c'è niente Delfino Eh non mangi più niente Volpe Mi canco lì Al massimo una super Beccamo Chissà questo Che mazzo Vabbè E illusionist O quello che sia Demone Dai La cosa positiva È che abbiamo un'altra foil Che sta nella promo Allora Secondo te Cosa becchiamo come promo Eh non so che promo Non ho messo proprio in formato No sono le stesse carte Che becchiamo Ma qualsiasi carta Può essere Una delle folle Un mostro ursartico Che anche questi uscivano Qua dentro Nuovi supporti Come promo per me troviamo O un ursartico Che ci fa dire Che schifo la vita Sì O un runic Dici Sì Un po' pesante Me la sento così Me la sento così Aspetta Aspetta Prima c'è questo Mi giro che t'ammarzo Sto scena cosa del genere Mostro vento Illusionista Gelato Dinosauri E quella di Prima tipo Fusione Generica Da tenere sotto Sotto controllo Ragazzi Pacchetto promo Lo ammazzo Se esce una di quelle Cadetta Perché? So forti No? Cioè so carte buone Dai Runic Ok Uno super runic Cioè Senza guardare Fallo vede prima La telecamera E io la guardo Poi te la giri Tu la guardi? Sì Tu fallo vede la telecamera E basta È fuoco? Non è? No Non è runic però Ah bella È bella Sì 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 Infatti Non è runic Appena ho visto viola Ho detto è runic Invece non è runic No dai ragazzi È bellissima Guarda L'accetto Perché hanno dei bellissimi Apporti L'illusionista Chissà quali sono gli effetti Però Perché tipo Questa che è la rara Che non metterà mai fuoco Perché ci sei te O questa Per me è pazzesca Proprio bellissima Speravo in questa Quando ho visto Quello lì No ma tanto penso che Escono delle stesse rarità Non è che hanno una rarità Differente Sì 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 No 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 Sì sì Questo l'ho capito Dai top Ci posso stare Mi piace Non è andata male eh Tutto sommato Oh abbiamo trovato La cover card Poi l'ultima Etvisa star frost Non abbiamo trovato la prisma Però nel senso Alla fine sticazzi Sai quanto Mezzo valida per quella? Quanto? Tipo 2 euro 2 euro costa Stanno così tanti Adesso vediamo E va bene ragazzi Il video finisce qua Spero come sempre Vi sia piaciuto E fatemi sapere Qua sotto con un commento Cosa ne pensate Di questa espansione Degli illusionist E di quello che abbiamo trovato E soprattutto Se volete Delle liste Sì Visto che le mie liste Sono un po' che mancano Magari vi mancano Se non vi mancano Non le porto più Va bene ragazzi State mesi E noi ci rivediamo Domani Sempre qua Con un nuovo video Ciao a tutti Ciao a tutti